Mi chiamo Filippo Lamantia, sono un osto e cuoco, ma non uno chef. Oggi ci troviamo in Lombardia. Andremo a realizzare un piatto utilizzando appunto il mini peanut brown con dei prodotti straordinari come la zucca. Pasta con la zucca è buonissima. La patata. Patate gratinate sopra un branzino. La nostra pasta è pronta.